Un guasto alla rete fognante sta creando disagi non indifferenti agli abitanti delle vie dell'Orto e Amoroso, due percorsi di secondaria importanza ricadenti nel quartiere Cappuccini Madonna del Ponte nel centro storico di Caltagirone. Questa dunque è la premessa prima di entrare nel merito di una problematica che innanzitutto perdura da mesi e che si manifesta in maniera piuttosto violente in occasione di ogni evento meteorico così come si evince da queste immagini forniteci da un residente. In quei casi acque bianche e acque nere si convogliano e fuoriescono dalla condotta fognaria e come un fiume in piena travolgono massi e detriti che poi si riversano al sottostante parcheggio Cappuccini. I piani bassi delle abitazioni e i garage delle due porzioni di strada devono purtroppo fare i conti con allagamenti e problematiche simili. I residenti della zona hanno chiesto all'amministrazione comunale interventi risolutori e la sistemazione definitiva del canale di gronda. La soluzione dovrebbe essere imminente in quanto il personale dell'ufficio tecnico comunale sta elaborando e ultimando il progetto peraltro esecutivo di ripristino e rifacimento della rete fognante. Le competenze e fini della realizzazione dei lavori riguardano sia la società dei servizi idrici etnei, la SIE, sia l'ente di Palazzo dell'Aquila. Non appena sarà ultimata la fase di progettazione saranno avviati gli interventi. L'inconveniente andrebbe risolto anche perché l'aria parcheggio in vista delle festività natalizie accoglie bus turistici dei visitatori che si riversano nel centro storico.